Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. L'ex prefetto di Bologna Matteo Piantedosi che per diversi anni è stato anche funzionario sotto le due torri, la bolognese Anna Maria Bernini, sono stati nominati ministri del governo Meloni, il primo al Ministero dell'Interno, la seconda al Ministero dell'Università e della Ricerca. Un uomo di 73 anni è ricovernato in gravi condizioni all'ospedale maggiore dopo essere stato investito questa mattina da un'auto furgonata. L'incidente è avvenuto a San Lanzaro di Savena. Tumani a San Giovanni in Persiceto sarà deposta una bici bianca per ricordare Andrea Fregni, il 69enne investito da un'auto pirata. Ha strappato il registratore di cassa e danneggiato la portavetria ed è scappato ma il titolare della farmacia Sacro Cuore gli è corso dietro, ha chiamato la polizia e lo ha fatto arrestare. Alla fine è andata bene ma ci sono stati atimi di panico, non è la prima volta che succede, spiega il titolare della farmacia Paolo Penazzi. Oggi poi il questore ha premiato un cittadino che ha inseguito uno scippatore in Bolognina. I residenti di Corte Galluzzi protestano per gli vieto di accedere con l'auto alla zona dalle 20 alle 10.30 alle 15 alle 17. Sono limitazioni che ci creano innumerevoli problemi nella vita quotidiana, qui è diventato impossibile vivere, dicono i residenti. Bollette stellari con aumenti che arriveranno a sfiorare il 300% per il riscaldamento della propria abitazione, un altissimo rischio di morosità nei pagamenti delle rate per molte famiglie bolognesi ed il blackout dell'intero sistema condominiale sono le conseguenze del caro energia sulla gestione degli immobili sotto le due torri. A lanciare l'allarme l'associazione degli amministratori di condominio aderenti a Confcommercio a Scum Bologna. Buonasera, ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale. Dunque l'ex prefetto di Bologna, Matteo Piantedosi, che per diversi anni è stato anche funzionario sotto le due torri. La bolognese Anna Maria Bernini sono stati nominati ministri del governo Meloni, il primo al Ministero dell'Interno, la seconda al Ministero dell'Università e della Ricerca. C'è la bolognese Anna Maria Bernini e l'ex prefetto di Bologna, Matteo Piantedosi, tra i ministri del nuovo governo Meloni. Entrambe sono nella lista presentata nel pomeriggio di oggi al Presidente della Repubblica, Mattarella, e resa pubblica dopo l'incontro al Quirinale, durato poco più di un'ora. Anna Maria Bernini, nominata ministro dell'Università e Ricerca, è nata a Bologna nel 1965 ed è figlia di Giorgio Bernini, deputato e ministro del Commercio con l'Estero nel primo governo Berlusconi. La Bernini è entrata in politica con Alleanza Nazionale per passare poi al Popolo della Libertà e infine a Forza Italia, ricoprendo dal 27 luglio al 16 novembre 2011 la carica di ministro per le politiche europee nel quarto governo Berlusconi. Attualmente ricopre l'incarico di capogruppo in Senato di Forza Italia. Ma c'è anche il nome dell'ex prefetto di Bologna, Matteo Piantedosi, nella squadra di governo di Giorgia Meloni. A lui è andato il Ministero dell'Interno. Nato a Napoli il 20 aprile 1963, sposato con due figlie, Matteo Piantedosi si è laureato in giurisprudenza a Bologna, dove ha poi ricoperto l'incarico di prefetto tra il 2017 e 2018. Precedentemente, sempre in piazza Roosevelt, aveva ricoperto l'incarico di capo di gabinetto. La sua è una lunga carriera nell'apparato dello Stato e non ha mai fatto politica, anche se si dice che la sua sia una nomina in quota lega. Tra il 2018 e il 2019 fu capogabinetto al Viminale, con l'allora Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Voltiamo pagina, grave incidente. Questa mattina a San Lazzaro di Savena, un uomo di 73 anni è stato investito. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata al Maggiore di Bologna. Domani mattina invece a San Giovanni in Persiceto sarà deposta una bicicletta bianca, nel punto in cui fu investito Andrea Fregni, il pensionato di 69 anni, il cui corpo fu ritrovato dopo alcuni giorni. È ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Un uomo di 73 anni che è stato investito da un'auto furgonata in via Paolo Poggi e all'altezza delle scuole Doninia a San Lazzaro di Savena. Ancora non è chiara la dinamica che ha il vaglio degli agenti della polizia locale arrivati sul posto per il rilievi di rito, ma da una prima ricostruzione sembra che il 73enne stesse attraversando la strada quando è stato colpito dal mezzo che da via Poggi procedeva in direzione via Giovanni XXIII. È stata immediata la richiesta dei soccorsi. Una volta sul posto i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure all'anziano e poi l'hanno trasportato in ospedale dove è tuttora ricoverato. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di ricostruire l'incidente. Non è chiaro infatti se il 73enne si trovasse sulle strisce pedonali o meno e se la velocità del mezzo superasse i 30 km orari previsti in quel tratto di strada. A San Giovanni in Persiceto invece domani sarà deposta una bicicletta bianca per ricordare Andrea Fregni il pensionato 69enne trovato morto l'8 ottobre dopo che era scomparso da casa da alcuni giorni dopo essere stato investito mentre era in sella la sua bici senza che il responsabile dell'incidente si fermasse per prestagli soccorso. L'iniziativa è organizzata dalla consulta comunale della bicicletta di Bologna, dal tavolo metropolitano della mobilità attiva e dall'Associazione Salva Ciclisti di Bologna. Per quanto riguarda le indagini sull'incidente i carabinieri hanno individuato la tipologia del veicolo. Si tratta di un furgone marca Ford. I militari lanciano quindi un appello ai possibili testimoni a farsi avanti. E un altro episodio che ha dessato l'attenzione degli organizzatori è l'investimento di una ragazza appena ventenni è venuto sempre a San Giovanni in Persiceto mentre attraversava le strisce pedonali. Questa volta l'auto si è fermata e la conducente ha chiamato i soccorsi. La giovane si trova ancora ricoverata in gravissime condizioni. Ha strappato il registratore di cassa e danneggiato anche la porta vetri ed è scappato. Ma il titolare della farmacia Sacro Cuore gli è corso dietro e lo ha visto cercare di nascondersi nella cortile della chiesa del Sacro Cuore. Ha chiamato quindi la polizia e lo ha fatto arrestare. Sentiamo l'intervista. Ecco, ci racconta come si sono svolti i fatti. Ma è stata una cosa effettivamente strana perché prima è entrato questo ragazzo che era un po' malinarnese e al banco invece di chiedere alla solita spirina si è messo il passamontagna e ha chiesto chiaramente i soldi e noi gli siamo fatti una risata e lui è uscito e dice torno con la pistola. E pensavamo scherzarsi e invece è tornato veramente non sappiamo se avesse la pistola o meno fatto sta che ha avuto un movimento brusco ha strappato letteralmente il registratore di cassa travolgendo tutto quello che c'era davanti creando una confusione incredibile in farmacia ed è scappato col registratore. E io dietro. Perché insomma, sono già stato svaliggiato due o tre volte tutte le volte cerco di non arrendermi quindi c'è un corso dietro e con me anche il mio dottore, il dottor Ciaccio che appunto stava servendo a banco mi ha fatto un inseguimento a questo ragazzo e l'abbiamo trovato nel posto più assurdo che potrebbe esserci perché invece che scappare lungo la via come avrebbe fatto uno intelligente si è infilato in un cortile il cortile qua della chiesa del Sarrucuoro qui vicino e dal cortile l'abbiamo cercato l'abbiamo trovato vuoi sapere come finisce? Finisce bene poi? Finisce bene finisce che dopo averlo trovato perché lui si era nascosto dietro le macchine era difficile anche da scovare abbiamo visto questo ragazzo che è fatto anche un po' venerezza un napoletano credo 35 anni che non sapeva bene si negava che aveva nascosto il registratore si era denudato quasi per non essere più riconoscibile poi è arrivata la polizia non l'abbiamo tenuto fermo lì e abbiamo recuperato anche la rifurtiva è andata alla fine bene però state atemi di alto panico quindi i danni a monti cioè si è rotto il registratore di cassa? i danni sono morali perché effettivamente vedere uno che ti sfregia così la farmacia è una cosa che non ho sopportato e i danni economici sono stati beh il furto l'incasso l'abbiamo recuperato poi abbiamo l'accortezza di non lasciarne mai molto nel cassetto però ha fatto del bel danno trascinando via il registratore di cassa e soprattutto la porta automatica che lui non sapeva come uscire l'ha sbattuta varie volte e quindi temo che ci sia un danno grosso a questo livello sì io ci sono relativamente abituato perché ho avuto una volta un temperino alla gola un'altra volta la pistola puntata e quindi botte col calcio in testa e lì per lì appunto come dicevo prima reagisci però ti fa dopo quando ci ripensi ti calano gli zuccheri e dici ma cosa ho rischiato però è inevitabile non si può subire poi sono rimasto anche male perché tendenzialmente la Bolognina è un quartiere di cui non si parla tanto bene ma qui siamo alle porte della Bolognina praticamente in indipendenza e cose grosse grosse non erano mai successe tranne quello che avevo detto prima anche perché sono titolari da 50 anni è successo tre volte quindi la media rimane bassa il questore di Bologna Isabella Fusiello ha ricevuto questa mattina uno dei due cittadini che il 17 ottobre ha sventato un tentativo di cippo ai danni di una persona anziana il fatto è accaduto in Bolognina sentiamo la testimonianza di Massimiliano Sussarello io mi trovavo in via Matteotti dove tra l'altro abito ho notato una signora che urlava che gridava una persona che la strattonava ha preso praticamente la sua borsa è scappato via velocissimo verso via Algardi che è una leggera traversa tra Ferrarese e Matteotti istintivamente non sono andato verso la signora ma sono corso dietro dietro la persona ho corso più più velocemente possibile sono riuscito a fermare la persona e ho ripreso la borsa poi in quei momenti diciamo lui è riuscito a strattonare è scappato via e quindi ho recuperato la borsa ho fatto penso 200 metri velocissimo perché cercavo di raggiungerlo anche perché avevo capito dalla voce che si trattava di una donna la cosa mi aveva anche colpito un uomo così che fa così con una donna strattona quindi ho seguito lui per recuperare la borsa ho ripreso la borsa poi sono tornato ancora indietro dalla signora signora di 75 anni poi ho scoperto che nel frattempo era anche cascata e insomma ho avuto un trauma so che ha una frattura nella spalla quindi insomma si è fatta anche abbastanza male ci ripensi dici vabbè però istintivamente penso che non bisogna girarsi all'altra parte quindi è quasi stata una cosa spontanea cioè corre il più velocemente possibile per recuperare per fermare questa persona che aveva fatto una cosa si sente un po' eroe se si può usare questa parola direi no per così poco penso che lo dovremmo fare un po' tutti cioè girarsi dall'altra parte è sbagliato per così poco non credo che si debba essere eroe dobbiamo abituarci tutti a non girarci dall'altra parte se è possibile e fare qualcosa anche per gli altri i carabinieri hanno denunciato in due diversi episodi tre minorenni dai 14 ai 17 anni per detenzione e fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi nel primo caso siamo a Dozzan Emilia dove i carabinieri hanno trovato due 17 anni entrambi con precedenti in possesso di 50 grammi di hashish nascosti in parte in tasca e in parte a casa uno di loro inoltre è stato trovato in possesso anche di oltre 2.000 euro in banconote e di vario taglio nella circostanza i carabinieri spiegano di avere sequestrato in via precauzionale due pistole semi-automatiche regolarmente detenute dal fratello di uno dei due 17 anni uno dei ragazzini dovrà rispondere anche di porto di armi e oggetti atti ad offendere perché al momento del controllo aveva un coltello di 17 centimetri stessa accusa per il 14enne denunciato dai militari a Casalecchio di Reno il minorenne aveva infatti una pistola semi-automatica salve sprovvista del tappo rosso il ragazzino controllato davanti al centro commerciale meridiana non ha dato spiegazioni sul perché avesse l'arma a giocattolo i carabinieri presumono che poco prima il 14enne avesse esploso alcuni colpi di pistola nella zona spaventando alcuni cittadini che poi si sono lamentati sui social i carabinieri di Bologna hanno denunciato due ragazzi per deterioramento e imbrattamento di beni culturali i due avevano partecipato alla sgommata fatta nella piazzetta dei servi di Maria in strada maggiore a Bologna per omaggiare il loro amico morto in un incidente stradale il mea culpa e il tentativo di restituire il suo splendore alla piazzetta dei servi di Maria in strada maggiore a Bologna non hanno evitato la denuncia a due ragazzi un 27enne ucraino e un 20enne italiano entrambi residenti a Bologna che l'8 ottobre scorso hanno sgommato davanti alla chiesa dopo il funerale del loro amico di 21 anni che ha perso la vita in un incidente in moto in Viale Roma la denuncia per deterioramento e imbrattamento di beni culturali o paesaggistici è scattata a seguito di un'indagine che i carabinieri coordinati dalla procura di Bologna avevano avviato in occasione dell'imbrattamento della pavimentazione in terracotta della piazzetta si sono introdotti abusivamente spiegano i carabinieri che hanno identificato i due grazie ai filmati che gli stessi hanno fatto con i telefonini video che poi sono finiti sui social network i ragazzi che hanno partecipato alla sgommata si sono scusati come testimonia ai nostri microfoni uno di loro il nostro intento è di rimediare al danno che abbiamo fatto non pensavamo al momento non avevamo il cervello collegato del tutto quindi non abbiamo pensato alla gravità della cosa siccome è stato fatto questo gesto per il nostro amico che ha perso la vita in un incidente stradale qualche giorno prima e siccome è morto in moto ed era un ragazzo che girava spesso con noi abbiamo pensato di fargli un omaggio pur essendo stato un omaggio un po' stupido diciamo adesso appunto siamo andati a comprare dei prodotti siamo andati a comprare qualcosa per cercare di rimediare ai segni lasciati chiediamo scusa tentavano di introdurre farmaci illegali nel territorio nazionale nascondendoli dentro ai bagagli in arriva all'aeroporto di Bologna ma la guardia di finanza assieme ai funzionari delle dogane ha sequestrati farmaci denunciato i corrieri vediamo nei giorni scorsi funzionari dell'agenzia delle accise dogane monopoli e militari del comando provinciale della guardia di finanza hanno sottoposto a sequestro presso l'aeroporto internazionale Marconi di Bologna oltre 4200 compresse e flaconi di medicinali di natura antinfiammatoria e antibiotica a seguito di due distinte operazioni di servizio operate nei confronti di due passeggeri provenienti dal Ghana e dal Bangladesh i farmaci rinvenuti trasportati nei bagagli dei veggiatori sono risultati privi delle idonee certificazioni sanitarie nonché delle prescritte autorizzazioni ministeriali l'introduzione di farmaci sul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell'AIFA l'agenzia italiana del farmaco è vietata e pertanto tutti i prodotti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale e i responsabili denunciati alla procura della Repubblica il risultato si inserisce nel quadro delle attività di controllo svolte quotidianamente dai finanzieri e dai funzionari dell'agenzia delle dogane all'interno degli spazi doganali volte a garantire la tutela della salute pubblica messa a serio rischio da prodotti illegali meno costosi ma spesso pericolosi o nocivi dopo due giorni di occupazione il collettivo Cua lascia allo studentato Beio di via Serlia o a Bologna all'origine della decisione scrive il collettivo sulla propria pagina facebook c'è il fatto che questa mattina si sarebbe riunito un tavolo di trattativa con la proprietà svoltosi all'interno di Beio il referente della proprietà dicono gli attivisti si è fatto carico di iniziare un protocollo di intesa con l'università ed ergo per destinare parte dell'immobile all'emergenza abitativa decidiamo quindi di uscire spostando le nostre occupazioni altrove in attesa del corteo previsto per domani i residenti di Corte Galluzzi protestano per il divieto di accedere con l'auto alla zona dalle 20 alle 10.30 e dalle 15 alle 17 sono limitazioni che ci creano innumerevoli problemi nella vita quotidiana qui è diventato impossibile vivere dicono i residenti ecco lei è residente qui in Corte Galluzzi che problema avete? io sono residente qui dal 1993 e quindi ne ho visto un po' di tutti i colori quando siamo arrivati questa era un'area condominiale l'accesso alla zona viene dato dall'amministratore i condomini e andavamo d'amore d'accordo poi successivamente si sono susseguiti una serie di limitazioni la più pesante che stiamo subendo oggi è quella di una limitazione a fascia oraria nell'accesso alla Corte quindi poter arrivare a casa solo a fascia oraria dalle 20 di sera alle 10.30 della mattina e dalle 15 alle 17 è un problema secondo me di buon senso perché infatti tanto è vero che quando io cerco di spiegarlo ai miei amici che non sono esacerbati come noi che abbiamo subito tutta una serie di cose ma lo spiega la gente all'uomo della strada non ci credono perché c'è una roba impossibile che io non possa arrivare sotto casa se non a fasce orarie oltre appunto diciamo ai disagi della vita quotidiana quando poi subentra un particolare problema di tipo sanitario la cosa si aggrava ulteriormente nel mio caso ad esempio ho subito un intervento ortopedico che non mi consentiva di camminare ho iniziato appunto chiedendo deroghe a queste appunto fasce orarie perché logicamente appunto dovendo fare controlli eccetera non è che potessi esattamente rientrare nel momento previsto per la fascia oraria e mi è stato risposto insomma che non era possibile fare deroghe in nessun senso probabilmente tra poco cercheremo delle soluzioni alternative perché per noi qui è diventato quasi impossibile vivere faccio giusto un esempio noi abbiamo tre figli li mandiamo a scuola al quartiere Savena perché tra l'altro in questa zona c'è anche una carenza di strutture scolastiche quando dobbiamo andarle a prendere da scuola è una rincorsa escono alle 4 e mezza una rincorsa per cercare di rientrare entro le 5 per poterli fare rientrare a casa dopo qualcuno deve andare a cercare un parcheggio fuori con la macchina per cui è una situazione per noi quasi insostenibile appunto probabilmente siamo destinati a cercare qualcosa altrove se voi veniste alle 8 di sera qui fuori vedreste tutta una fila di auto dei residenti che aspettano il calare delle 8 per poter entrare scaricare la spesa o i figli e poi andare a cercare parcheggio è una situazione abbastanza ridicola per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale ritrovata nei pressi di Sassomarconi domenica prossima 23 ottobre saranno evacuate sei famiglie e sospese le attività di un cappannone industriale e di un centro di potabilizzazione era l'ordigno giace sulle pendici di Montemario nei pressi dell'accordo di collegamento tra il capoluogo e il casello autostradale di Cinque Cerri per disinnescarlo è stata istituita una zona rossa con raggio di 480 metri che dovrà essere sgumberata dalle 7 di mattina fino al termine dell'operazione previsto intorno alle 11 a partire dalle 7.30 saranno inoltre previsti blocchi alla circolazione tra Sassomarconi e la località Cinque Cerri altri dettagli sul sito web del comune di Sassomarconi e sono cominciati a Sassomarconi il lavoro di manutenzione straordinario del ponte Leonardo Da Vinci chiuso più di un anno e mezzo fa per il deterioramento della struttura l'importante opera di collegamento tra la vallata del 7 e quella del Reno tornerà percorribile tra circa un anno Con la consegna del cantiere da parte di Anas all'impresa appaltatrice sono finalmente iniziati a Sassomarconi i lavori di ricostruzione del ponte Leonardo Da Vinci chiuso dal traffico dal febbraio dello scorso anno a causa del grave deterioramento di parte della struttura in cemento armato che ne metteva a rischio la stabilità un intervento da 21 milioni di euro al termine del quale a fine 2023 la viabilità di una importante fascia pedemontana bolognese potrà tornare alla normalità segnando la fine dei tanti disagi che hanno dovuto sopportare cittadini e imprese come ha sottolineato nei nostri studi l'assessore regionale alle infrastrutture Andrea Corsini del corso della nostra rubrica di approfondimento Nedalus Sì, è stata una cosa complicata molto complicata da gestire perché naturalmente parliamo di un ponte che ha un'importante funzione di collegamento che ha creato anche parecchie difficoltà non solo ai cittadini a chi transita su quella strada per motivi di lavoro ma anche ai residenti e ai commercianti del territorio il sindaco di Sasso Marconi come dire mi attenziona sempre questo tema dei danni alle attività commerciali che purtroppo quando ci sono dei cantieri così impattanti sono abbastanza inevitabili e devo dire però che noi abbiamo chiesto il commissariamento dell'opera che ci è stato concesso e questo ha consentito comunque di accelerare le procedure di qualche mese perché diversamente sarebbe stata ancora più lunga La struttura sarà parzialmente demolita e sarà realizzato un nuovo impalcato sostenuto da pile oblique in acciaio e cemento armato ora è importante che il cronoprogramma sia rispettato dice il sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmigiani Sono iniziati adesso i lavori il cronoprogramma parla di un anno noi lavoreremo e chiederemo ad Anas di rispettarlo perché l'apertura del ponte è vitale per tutto il territorio Aumenti che arriveranno a sfiorare il 300% per il riscaldamento della propria abitazione e di conseguenza un altissimo e concreto rischio di morosità nei pagamenti delle rate condominiali per molte famiglie bolognese a lanciare l'allarme è Abiconf l'associazione degli amministratori di condominio aderenti a Confcommercio Ascom Bologna Riscaldare la propria casa in vista dell'inverno sarà un lusso che purtroppo non tutte le famiglie bolognesi potranno permettersi non è una funesta e pessimistica previsione ma una verità incontestabile le spese di condominio subiranno nei prossimi mesi un aumento stellare tra il 250 e il 300% in più rispetto all'anno scorso quando già i costi erano cresciuti del 40% tradotto vuol dire che se la spesa condominiale per il riscaldamento per una famiglia media si aggirava sui 2.000 euro annui nei prossimi mesi si arriverà a sfiorare il tetto dei 6.000 è evidente che molti nuclei familiari non riusciranno a fronteggiare questi costi andando così ad impoverire progressivamente le casse dei condomini fino al default già oggi il fenomeno dell'amorosità tra Bologna e provincia è in aumento preoccupante per evitare che l'intero sistema di gestione vada in tilt è necessario stabilire subito un piano energetico di condominio con la possibilità di dilazionare i pagamenti è da diverso tempo che si parla di questi aumenti fuori controllo e sostanzialmente non si fa nulla allora qui se lo Stato non apre un tavolo con tutte le società energetiche e i condomini in maniera tale da fare un piano energetico per il condominio per poter diciamo spalmare questi maggiori costi che auspichiamo tutti siano limitati ad un periodo storico breve però spalmarli semmai con una garanzia dello Stato su una 5 anni e quindi tenere questo maggior costo in un 20% rispetto a quello reale cioè se non si fa così da subito il rischio è che il sistema condominio vada in default perché le famiglie vanno in bolletta il sistema condominio è importantissimo per il sistema paese e va aiutato con uno specifico piano e intervento da parte dello Stato dico anche che però dall'altra parte lo Stato deve far partire ripartire tutti i meccanismi di riqualificazione energetica un'ora di educazione fisica in più gestita direttamente da un laureato in scienze motorie una possibilità per le scuole primarie della regione miglia romagna non solo per le quinte dunque noi abbiamo voluto fare una cosa in più decisamente in più perché insieme a Sport e Salute Nazionale insieme all'ufficio scolastico regionale per le scuole che lo vorranno mi auguro il numero più alto possibile non solo le quinte classi ma la prima la seconda la terza e la quarta possono accedere allo stesso progetto cioè in ogni classe avere un'ulteriore ora settimanale aggiuntiva di educazione fisica tra virgolette insegnata da un professionista quindi parte adesso una apertura di una piattaforma di una chiamata per tutti coloro che i professionisti che vogliono avere una nuova opportunità di lavoro e contemporaneamente per tutte le scuole da qui a novembre che vogliono iscriversi a questo progetto noi mettiamo a disposizione come regione un milione 300 mila euro che attiviamo attraverso i fondi europei del fondo sociale europeo plus perché come diceva lei lo sport per noi è anche corretti e sani stili di vita è coesione sociale e quindi insegnato opportunamente già dalle prime classi scolastiche crediamo che sia un'ulteriore opportunità per il benessere e la qualità della vita dei nostri bambini un break poi di nuovo in studio parleremo di sport tra pochissimo l'intestino è tuo secondo cervello mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata probioticamente gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale un uovo proprio TK mio rafforza le tue difese immunitarie da Pulfarma in farmacia grazie a tutti Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni, Magica Parrucchieri è molto più di un hair stylist, uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine, per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara, via Procaccini 10, telefono 051 36 16 12, 051 36 16 06. L'intestino è tuo secondo cervello, mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata, probioticamente, gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale, un nuovo proprio TK mio, rafforza le tue difese immunitarie, da Pulfarma in farmacia. Il nostro impegno quotidiano è prenderci cura del vostro udito. Salve, sono Caterina Fiorentini, tecnico audioprotesista di OtoPlus. Nel nostro nuovo centro di Bologna individuiamo i problemi legati all'udito e forniamo la soluzione più adeguata alle tue esigenze. Tecnici altamente qualificati, con l'ausilio di moderne apparecchiature, svolgeranno il controllo gratuito del tuo udito. OtoPlus è partner certificato FonaClinic. Vieni a trovarci nel nostro centro di Bologna, in piazza dell'unità 11 per maggiori informazioni, o chiama allo 051 316 9 234. Che disastro il calcare! Ma ci sono qua io, Drago, una bestia contro il calcare! Eh, quelli sì, che erano anni duri per il calcare. Per fortuna, Drago è tornato, tre volte più efficace ed è anche igienizzante. Nuovo Drago Pulisan, l'anticalcare igienizzante. Una bestia contro il calcare! L'intestino è tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo proprio TK mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulfarma in farmacia. Di nuovo in studio, parliamo di calcio. Il Bologna passa il turno di Coppa battendo il Cagliari 1-0 grazie ad un'autogol. E vola, diciamo così, agli ottavi per incontrare la Lazio il prossimo gennaio. Un po' presto, un po' pochino per parlare di svolto. Era il minimo sindacale, striminzito 1-0 tra le muramiche e contro la squadra della cadetteria per di più realizzato grazie ad un autogol propiziato dall'ex di turno, in questo caso Lico Jannis, che, come da prassi, non ha esultato per rispetto dell'ex maglia. Primi tre punti in saccoccia per Mister Motta, anche se parliamo appunto di Coppa e non di campionato, dove la vittoria lattita da un po'. Che dire, il Bologna ha dominato? Certo, ci sarebbe mancato altro, creando anche diverse occasioni da gol, tra cui una rete di scouten, annullata per solito pelo inguinali, impercettibilmente più avanti della peluria degli avversari, e subito un solo tiro in porta, che però è finita sulla traversa, poi su Bardi, senza ulteriori conseguenze, che di Beffe già satura la recente storia rosso-blu. Un po' pochino per parlare di quella svolta, di cui tutti si sono riempiti la bocca dopo la sconfitta, parliamo sempre di zero punti, contro la presuntamente stellare con pagina napoletana per 3-2. Restiamo nel limbo, in attesa, anche dopo la gara di giovedì sera. Per intuire la possibilità di intravedere un lumicino in fondo, un tunnel che ai tifosi anche più pazienti pare a infinita galleria, bisognerà attendere l'esito della partita sempre al Dallara di domenica ore 15 contro un Lecce che fa di velocità e aggressività le sue carte migliori e che, detto tra noi, ci precede pure di un punto in classifica. Nel frattempo crescono gli acquisti di centrocampo e attacco comprati e finora poco o punto utilizzati. L'unica cosa certa, vistasi sul campo, è una considerevole rotazione degli uomini a disposizione. Dare continuità a quello che si è fatto il primo tempo contro la Sampdoria e la partita contro il Napoli che abbiamo affrontato un'ottima squadra. Oggi, anche giocando contro un'esquadra che in questo momento è in Serie B, però è il Cagliari che l'anno scorso o per tanti anni è stato giocando la Serie A, non è mai per scontato vincere una partita. Ripeto, ogni partita ha la sua storia. La Serie A oggi era una prova molto interessante perché nella difficoltà o nel momento che stiamo attraversando è importante la vittoria per dare continuità, per aumentare la fiducia, per costruire un gruppo solido e lo abbiamo fatto. Basket è molto male alla Virtus in Eurolega che ha perso la seconda partita consecutiva nella massima competizione europea. I bianconeri hanno perso a Belgrado contro il Partizan per 90 a 62. Tra collo Virtus a Belgrado, il Partizan si impone per 90 a 62, un risultato netto ma in discussione per una gara sempre saldamente in mano ai padroni di casa. Finisce malissimo il quarto appuntamento di Eurolega per i bianconeri che finora hanno sempre segnato meno di 70 punti nella competizione. Pesa tanto l'assenza di Scengeglia, ma le due trasferte di Eurolega mostrano che c'è anche altro da sistemare nella squadra bianconera. Il gap che si è creato nel primo quarto ha sostanzialmente determinato la partita, ha spiegato Scariolo. Nei quarti centrali abbiamo giocato pur con errori, poi nell'ultimo periodo abbiamo purtroppo mollato. Il Partizan è stato migliore di noi, lo accettiamo ed oggi lavoriamo per crescere. Probabilmente tutti si aspettavano un ritorno più in discesa, ha concluso il coach bianconero. La scorsa stagione è stata di attesa e se siamo qui è perché abbiamo vinto l'Eurocup. È una medaglia a due facce, una è bella e l'altra è dura. Sappiamo che ci sarà da soffrire e combattere per fare meglio. Queste le parole di Scariolo che torna con la sua squadra a concentrarsi sul campionato che propone domenica sera la gara casalinga contro Eviso. L'Eurolega torna invece giovedì con la trasferta a Madrid. Ed è tutto con questa edizione, grazie per essere stati con noi. A tutti voi una buona serata, arrivederci. Da oggi l'informazione di ETV Rete7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale. Grazie a tutti.